Sara Basilico, una giovane di 22 anni coinvolta in un grave incidente il 27 ottobre sull'autostrada 8, purtroppo deceduta 4 giorni dopo il tragico evento. La ragazza di Vanzago, vicino a Milano, ispirata il 31 ottobre, è presso l'ospedale Niguarda a causa delle gravi lesioni subite quando è stata catapultata fuori dall'auto in cui viaggiava come passeggera. L'incidente è avvenuto tra l'uscita a Fiere e la barriera di Milano Nord sulla 8 che collega Milano a Varese. Sara e la conducente, una donna di 38 anni, sono state coinvolti in una collisione con un'auto guidata da una 39enne, causando il ribaltamento del veicolo e l'espulsione di Sara. Gli operatori della REU hanno trovato diversi traumi sul corpo della giovane e dopo averla rianimata l'hanno trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda.